come aggiornare così la scheda grafica AMD ovviamente io non ho una scheda grafica AMD ma ho quella di Nvidia 1660 Super però i metodi migliori che puoi usare per aggiornare sempre la tua scheda grafica AMD e non avere problemi nei giochi sono questi programmi ovviamente c'è il programma AMD Adrenaline Edition Software questo è veramente un ottimo programma proprio come il programma Nvidia App questo qua dove io gestisco così la mia scheda grafica configuro così la grafica dei miei giochi e aggiorno anche i driver della 1660 Super è la stessa cosa anche con AMD Software Adrenaline Edition scarichi e installi così questo software ovviamente io adesso se vado a scaricarlo non me lo fai installare perché il mio computer non lo supporta oppure puoi aggiornare i driver di AMD a parte scaricando solamente dei piccoli driver per esempio scheda grafica o processore o chipset per la scheda madre ovviamente grafica scegli così la tua scheda video ovviamente faccio un esempio prendiamo così la radio 9 prendo così questa qua prendo quest'altra schiaccio qua sopra vado su Windows 10 64 bit edition Windows 11 ci clicco sopra ed eccoli qua i driver più rilasciati download queste sono i driver delle vecchie schede grafiche AMD e scarichi così i driver e lo installi senza nessun problema scarichi installi e poi devi riavviare il tuo computer una volta fatto puoi anche usare il programma driver easy il programma dispone di un piano gratuito pro è l'ultimo piano di 99 dollari vi consiglio quello gratuito perché poi per fare tutto questo devi scaricare installare aggiornamenti manualmente ovviamente il programma del programma driver easy è perfetto per aggiornare qualsiasi driver sul tuo computer e non rimanere indietro quindi driver easy vai su aggiorna e questa qua è la mia scheda grafica 1660 super un aggiornamento da 1 giga e 600 megabyte per quelli che hanno una versione gratuita ci metterà parecchio a scaricare quindi nel scaricare è semplice ma nell'installare è un po' complicato perché bisogna fare un'installazione manuale quindi per farti un piccolo esempio prendo così un driver che pesa veramente pochissimo prendo questo qua di invidia faccio aggiorna crea manualmente faccio continua scarico così il driver install manualmente e faccio continuo permette di uscire così questa cartella con tutti questi driver dentro faccio copia tasto destro su gestione dispositivi quindi vado qua sopra su start come ho detto è un metodo un po' complicato schede video vai sulla tua scheda grafica aggiorna drive cerca i driver nel computer ed eccolo qua basta e inserisci questo link di questo percorso file qua sopra lo metti qua e installi così la tua scheda grafica i driver per la tua scheda grafica sul sistema Windows 10 o Windows 11 fai avanti e installi così il driver era per farti un piccolo esempio prendendo un piccolo driver qua perché se adesso mi metto a scaricare questo ci metterà due ore perché applicano un limite di download per quelli che hanno una versione gratuita quindi questi sono i migliori metodi più facili per aggiornare la tua scheda grafica AMD con AMD software Adrenaline Edition oppure i driver a parte quindi ti ho lasciato tutto in descrizione grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao